Ciao a tutti, nel video di oggi, Leo e la Vitto sono in viaggio con mamma Chiara per andare all'Alberetta Resort. Qui Leo si diverte a correre tra le foglie cadute nel bosco, facendole volare ovunque, e rotolando cisi sopra. Vi lascio al video, buona visione! Dolcissima Vittoria, che in viaggio sta per addormentarsi in auto Leone si diverte a giocare in mezzo alle foglie secche dell'albero Chiara spiega ai suoi fan di voler imparare anche lo spagnolo Chiara mostra al suo nuovo maglioncino di Prada per la partenza Alcune foto del posto magnifico Alcune foto del posto magnifico Gaia! Ciao a tutti! Grazie a tutti.